Blanco, palla sul sinistro, Blanco col mancino! Mancino, Mancino! Buona, Ilaziano Cuomo! L'obsession ha vissuto il talento. Il lavoro di lavoro migliora il talento. Devi parlare per 90 minuti. Quale è il passaggio? Prima volta posso dare in ogni settore. La più importante, per me, per un me, per tutti. Questo è il mio sito per oggi. Ok, questo è la mia biblia, il mio libro. Questo è il mio più importante per me, per il mio lavoro. Questo è importante perché scrivo ogni giorno stati dei due team, in questo caso Como e Cagliari. E ho scritto i stati dell'ultima settimana, per esempio la posizione in ranking della ultima Serie B di Como con 47 punti. Quindi nel mio libro scrivo i nuovi giocatori di Como e i nuovi giocatori di Cagliari. Le ultime cose che faccio per la squadra sono il passato precedente. Il passato precedente tra Cagliari e Como, 16 vittoria per Como, 12 giocatori e 20 vittoria per Cagliari. Le ultime cose sul mio libro sono del riferimento. Questo è il segretario del mio libro. E dopo il libro non c'è un libro. Questa app è molto comfortabile per me perché mi ha aiutato a ricordare tutto sul giocatore. Quando ho iniziato a fare i commenti dei giocatori, ho usato il paper. Ma il rischio è un rischio, perché il paper può voler da mia desk. Con un pulito di mano, ho trovato tutto sul giocatore. Per Cagliari e per Cagliari. Per Cagliari è più facile per me. Perché io seguo tutti i giorni, in ogni training. Io intervio il giocatore, ho parlato con il giocatore. Quindi ho saputo il suo segretario. E questa è la parte del mio lavoro che preferisco. Perché ho scoperto una nuova storia. E ho cercato di raccontare questa storia per i fan che guardano il giocatore. Ho cercato di trovare il momento giocatore. Ho cercato di raccontare la storia del giocatore. Per esempio per Alberto Cerri. Ho cercato di raccontare i miei stati dopo un giocatore. Mi ricordo che l'ultimo anno ero il top scorer di Como. È troppo complicato di raccontare qualcosa del giocatore. Per esempio il giocatore. Ma una carta giocatore può essere un'opportunità di raccontare qualcosa per esempio di Cass Odental, di Luis Binx, di Filippo Scaglia. Un'importante parte del mio lavoro è trovare il momento giocatore per raccontare la storia, per raccontare le mie noti e per raccontare qualcosa del giocatore. Perché la priorità è l'azione, la priorità è la pitch, la priorità è il giocatore. E la mia voce è solo un supporto del giocatore. E come è importante il ritmo, Angelo, per commentare durante il giocatore? Quando qualcuno ha scoperto, la mia voce è più alta. Perché è la cosa più importante. Il giocatore è di fare la differenza. Per esempio l'ultima sezione contro Monza. Ho seguito il movimento di Alberto Cerri tra i due difensi di Monza. E ho anticipato l'idea di Nicolás Ioannu. Ioannu ha scoperto per Alberto Cerri. E Alberto Cerri ha scoperto il giocatore e il giocatore dietro 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 del stadio. Mi ricordo quel momento. È un fantastico momento. È non facile. Perché, per esempio, quando c'è molti giocatori in una situazione di corner kick, non è facile capire chi ha scoperto il giocatore. Non è facile. Quindi ho cercato di aspettare. Come è 1-0. Come è un giocatore. e ho cercato di trovare il giocatore di questa situazione. Cosa do altre persone dovranno fare? Se qualcuno vuole diventare un commentatore come te? L'obsession. L'obsession. In un film di Netflix, Astol. Il scouting. Un team di NBA. L'obsession. L'obsession. L'obbligo il talento. Il lavoro. L'obbligo. L'obbligo. Il talento. Devi parlare per 90 minuti. Ho cercato di raccontare il giocatore. Perché il giocatore è la cosa più importante. L'azione. Ma il mio primo giocatore è stato nel 2016. In la terza divisione. 0-0. Solo un giocatore. Il giocatore è stato nel target. E' un giocatore difficile. E quindi parlo sui coach. La storia del giocatore. La tactic. Tutti. Perché ho cercato di fare il mio meglio per il giocatore. E poi è stato il mio primo giocatore. E' stato importante per me. Qualcuno di preparazione che si tratta di partecipare. Soprattutto un'epoca. Soprattutto un giocatore. E' un po' di lavoro. C'è 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 un po' di lavoro. normalmente ho lavorato con la mia tablette e con la biografia del giro, le mie notizie. Queste sono le notizie dell'ultima sezione. Il frattempo scrivo questa parte. Como, Cagliari, i stati generali, i dati generali e il referee, perché il frattempo o il frattempo c'è il nome del referee del match. I stati generali sono usati prima del match, quando c'è la squadra nel centro del match con il referee, e quindi ho provato a dire i stati generali. Questa è l'ultima parte. Sempre faccio questo nel stadio, perché ho spiegato l'atmosfera del stadio e il stadio è una fuori di ispirazione per me. E questa è l'introduzione di questo match. In italiano è una nuova partita, un nuovo inizio, una nuova stagione. I vecchi eroi come Gattuso e Gabriloni, le nuove facce, Fabregas, Mancuso e Baseli, il passato, il presente e il futuro. Il come pronto a scrivere un nuovo capitolo della propria storia. Un nuovo match, un nuovo start, una nuova sezione. come Gattuso e Gabriloni, le nuove facce come Fabregas, Mancuso e Baseli. Il passato, il presente e il futuro. Como è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Amici e amici di Mola, benvenuti a Giuseppe Senigalli in Como. Angelo Taglieri è pronto a raccontare le emozioni di Como Cagliari. Cagliari, Mancuso dentro l'area di rigore. Cagliari non ci arriva perché Raduno dice lo anticipa. Parigini appoggia per Bellino col destro. Buon Como applausi per il Como. Baseli ci trova anche il suo compagno di reparto Bellino. Deve affrontare adesso il Diovine. C'è Nicola Sviola lì vicino con il Mancino. Sul secondo palo Pavoletti Ghidotti. Primo intervento super di Simone Ghidotti su Pavoletti con la specialità della casa. Il colpo di testa. Palla bella numero 10. Diovine la tiene dentro al campo. Cagliari dentro l'area di rigore. Alberto Cagliari con lo scampione per poco con un gran gol. Diovine può andare con il cross. Ancora da Cerri. Palla che passa. Blanco palla sul sinistro. Blanco con Mancino. Mancino! Buona! 1-0 a Como! Parigini però a prendere velocità. Vittorio Parigini a tu per tu con Radunovic. Parigini col destro! Grande chance per Vittorio Parigini non sfruttata. Alza il pallone Ghidotti. Alberto Cerri da solo contro tutti. Pallone quasi impossibile. Non per lui che la mette giù. Ancora Alberto Cerri. L'ex della partita. L'ha fatto un aggancio super. Super Alberto Cerri. Super Alberto Cerri. Un grande match. 1-1. Ma è un buon risultato per Como. È solo il primo match della season. La season è molto lunga. Ciao ciao. Angelo, Davion. Ciao a tutti.